Buongiorno a tutti signori, come state? Beh, è finito quel periodo di falsa estate in cui potevamo aspettarci di metterci ancora la magliettina adesso si va di maglioni, è ora del cambio armadi, purtroppo ho sperato fino all'ultimo che potesse continuare il caldo anche se per l'ambiente sicuramente non è qualcosa di positivo allora, vi dico subito una cosa, il video di oggi o comunque gran parte dell'argomento del video di oggi non è qualcosa di contemporaneo, diciamo così, non è attualità, è già qualcosa di vecchio e datato perché si parla della confessione di fagioli che è già arrivata oltre un giorno fa però questo è un momento, un momento complicato in cui mi sento come all'interno di un giardino pieno di trappole anti-orso e bisogna stare attenti a dove si mette i piedi perché da un momento all'altro potrebbe scattare la trappola e quindi bisogna scegliere molto attentamente le notizie e quello che si dice perché non è detto che si arrivi a trovare qualcosa di verosimile ci tengo a sottolineare che tutto quello di cui vi parlerò oggi e i pezzettini di frase e la ricostruzione deriva da tutto sport, ok? Io ho preso tutto da tutto sport c'è però da sottolineare come all'interno di un post Instagram di cronache di spogliatoio sempre queste frasi riprese da tutto sport siano state commentate con un emoticon del vomito da parte di fagioli che se inserite insieme alle storie di cui abbiamo parlato nel video di ieri in cui fagioli accusava la categoria dei giornalisti di dire delle bugie e che presto dirà la sua verità per quello che vi dico mi sento all'interno di questo giardino con le trappole per gli orsi quindi prendiamole con le pinze non abbiamo avuto ulteriori smentite nella giornata di ieri quindi questo dovrebbe essere un pezzettino di quella che è stata la confessione di Niccolò Fagioli alla procura di Torino, a Chinè perché è importante questa cosa? perché ci dà alcune risposte a delle domande che ci siamo fatti nei giorni scorsi e ci spiega anche un pochettino secondo me quello che sta succedendo intanto partiamo da un riferimento temporale perché Fagioli dice è iniziato tutto nell'estate del 2021 in un ritiro della nazionale Under 21 attenzione perché la prossima frase è emblematica ed è molto importante lo facevano gli altri e lo facevo anche io poi parla del rapporto con Tonali del fatto che sia stato lui a consigliargli alcuni siti, l'applicazione, bla 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 lo facevano gli altri e quindi lo facevo anche io attenzione però questo lo facevano gli altri significa che ci sono tanti altri giocatori coinvolti e questo potrebbe andare dalla parte di Fabrizio Corona che è da sempre millanta, altri dieci, cinquanta nomi di giocatori coinvolti o di dirigenti e bla 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 poi ci arriviamo perché Fagioli dice una cosa importante altrettanto importante e cioè iniziare per iniziare ho puntato sul tennis per partire e poi mi sono ritrovato in una condizione in cui avevo così tanti debiti che per recuperare ho iniziato a scommettere pure sul calcio piattaforme illegali o illegali a me non interessava dove giocare ma sulla seconda quindi quella illegale puoi giocare senza anticipare somme e questa è un'altra delle motivazioni che si aggiungono al perché giocare su una piattaforma illegale io nei giorni scorsi vi dicevo secondo me per un principio di privacy perché non vuoi se sei una persona influente far apparire il tuo nome legato al calcio scommesse o comunque alle scommesse in generale perché qua ancora non si parlava di calcio scommesse se era partite con il tennis oppure perché puoi giocare somme più elevate senza doverle dichiarare invece Fagioli tira fuori un punto che è un punto che probabilmente chi non ha mai giocato non riusciva a mettere nel calderone quindi non viene nemmeno passato per l'anticamera del cervello e cioè quello di poter giocare senza anticipare somme di denaro perché poi tanto finisce tutto sul conto Niccolò Fagioli e si vede se sei con il più o con il meno davanti e se sei con il meno devi restituire quelle somme, quelle cifre a queste persone che gestiscono queste piattaforme illegali quindi sicuramente non degli stinchi di santo non ho mai scommesso su Juve o Cremonese ma questo ormai era diventato quasi certo perché comunque la squalifica di Fagioli è soltanto di 7 mesi e quindi potrà tornare in campo a giugno 2024 in caso di scommesse nella sua squadra sulla sua squadra dove giocavo, su di lui, sulla sua prestazione che lui ha detto non ho mai fatto perché contrario alla mia etica c'erano anche la possibilità di scommettere sui cartellini o robe del genere non l'ho mai fatto proprio perché contrario alla mia etica e quindi già qua è un grosso sospiro di sollievo perché? Perché la squalifica sarebbe stata più lunga e secondo me proprio moralmente sarebbe stato qualcosa di difficilmente perdonabile perché capisco l'errore, capisco sbagliare capisco la volontà di essere aiutati però poi ci deve essere anche un paletto ci deve essere anche secondo me un limite da non sorpassare perché sennò si finisce proprio nel troppo decisamente nel troppo settembre 2022 dice Fagioli quindi quando praticamente viene confermata la Juventus Fagioli rimane alla Juventus a fine agosto 2022 quindi settembre 2022 quando c'è rinnovo di contratto perché era in scadenza ricorderete che l'entourage di Fagioli aveva detto rinnoviamo poi se volete andiamo anche in prestito su un progetto che ci può andare bene ma prima rinnoviamo quindi la volontà di Fagioli e dei suoi agenti era quella di rimanere alla Juve sin da subito e oggi può essere vista anche in un'altra ottica perché a settembre 2022 Fagioli dice avevo già 250.000 euro di debiti e ogni tanto questi debiti li pagavo facendo dei bonifici a un'orificeria di Milano e compravo degli oroggi di valori che poi andavano ritirati da chi gestiva questi siti, queste piattaforme nel periodo successivo al settembre 2022 attenzione ascoltate bene questa frase perché è emblematica nel periodo successivo al settembre 2022 giocavo in modo compulsivo di fronte alla tv su qualsiasi evento sportivo che stavo vedendo calcio compreso, serie B e Lega Pro comprese scommettevo con una tale frequenza e anche su più eventi contemporaneamente che non sono nemmeno in grado di ricordare quando ho tirato fuori quella parola pesante perché lo so, me ne rendo conto è una parola pesante, ludopatia questa credo sia la discrezione più sensata poi Fagioli dice ho giocato anche sulla serie A ho giocato sulla Champions League sull'Inter, sul Milan, sul Torino però quando dici ero arrivato a un punto in cui giocavo su tutto quello che vedevo giocavo anche il calcio non mi interessava e non me lo ricordo nemmeno è un problema e soprattutto se viene scritto lo facevo semplicemente per recuperare per recuperare quelle somme che aspettavano a queste persone poco raccomandabili ed è qui che Fagioli inizia a coinvolgere anche dei suoi compagni e infatti Gatti e Dragosin gli hanno fatto diversi prestiti si parla di prestiti di 40.000 euro addirittura Fagioli dice Gatti mi li chiede ancora indietro tuttora ecco ora probabilmente Gatti ha capito perché Fagioli gli aveva chiesto quei soldi la domanda a me sorge spontanea perché chiederli a Gatti a Dragosin ma non ad altri per un discorso di rapporto c'è un rapporto più stretto con queste persone oppure oppure questi giocatori erano comunque coinvolti all'interno di questo mondo delle scommesse che non significa sul calcio attenzione non significa sul calcio e quindi era più facile a parlare loro di queste cose perché Fagioli nega dice alla Juve non sapevano niente di questa roba me lo sono sempre tenuto per me non ne ho mai parlato con i miei compagni o con qualcun altro perché non mi fidavo di nessuno però attenzione perché a me la domanda sorge spontanea perché proprio Gatti e Dragosin Fagioli poi sottolinea che non ha intenzione di saldare i debiti circa 3 milioni di euro a settembre 2022 erano 250.000 euro di debiti quindi da settembre 2022 a ottobre 2023 in un anno secondo sempre questa ricostruzione che secondo Fagioli da quanto ho capito che tra l'altro ha eliminato lo suo account Instagram l'ha disabilitato per il momento non corrisponde al vero però la riporto per dovere di cronaca 3 milioni di euro da 250k a 3 milioni nel giro di un anno Fagioli dice non ho intenzione di saldare i debiti 1 perché ho già consegnato tanti soldi e 2 perché si tratta di scommesse nulle in quanto vanno a violare la legge italiana ovviamente sono piattaforme illegali però bisogna stare attenti perché chi gestisce queste piattaforme solitamente non è che si fa scrupoli poi ad arrivarci in qualche altro modo forse anche meno ortodosso attenzione bisogna stare molto attenti a maggior ragione dopo una confessione dopo che Fagioli è andato a snocciolare ha fatto anche tanti nomi di tanti siti di tante piattaforme ha fatto nomi di altri calciatori bisogna stare molto attenti secondo me in questi casi e poi c'è il finale in cui Fagioli dice a Reggio Emilia Sassuolo Juve faccio un errore la Juve perde 1-0 in seguito ho fatto un mio errore in panchina iniziò a piangere pensando ai debiti non pensando all'errore non pensando alla Juve pensando a tutti i debiti che avevo ora non sappiamo se questa cosa è vera oppure falsa se Fagioli l'abbia voluta inserire perché tirava di più perché poteva avere non lo possiamo sapere però sinceramente pensare a un giocatore al suo primo anno in Serie A il suo primo anno alla Juventus che è la squadra che ha sempre tifato che invece che godersi la stagione errori compresi perché secondo me gli errori fanno parte del percorso di crescita di un calciatore ma Giorgione a questa età dopo una partita persa ti ritrovi disperato per via di un suo errore non tanto perché la squadra abbia perso ma perché ci sono già dei demoni dentro di lui mi mette una tristezza e un'angoscia senza limiti una tristezza e un'angoscia veramente senza limiti io l'ho incontrato fa giove dopo quella partita vi posso assicurare che era distrutto moralmente distrutto ora veniamo ai tre nomi che ha fatto Fabrizio Corona alle Iene anzi scusate a striscia la notizia che erano i tre nomi che avrebbe dovuto fare alla Rai che sono stati censurati i cui abbiamo parlato ieri bla 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 Corona che dice a striscia non ti faccio vedere le prove perché mi devi dare i soldi alla Rai le avrei fatte vedere 2 più 2 fa 4 significa che alla Rai i soldi gliele hanno dati e poi non hanno mandato in onda il contenuto forse perché il contenuto è un po' troppo scarso forse questa è una mia opinione una mia ricostruzione perché perché Corona fa i nomi di gatti che è stato tirato dentro a fagioli questa è la motivazione che usa Corona perché è stato nominato da fagioli che è diverso rispetto a gatti o delle cose va bene è stato tirato dentro a fagioli che è un po' il discorso che facevo prima però non sono prove sono ragionamenti d'alta voce Casale che nel ritiro Under 21 avrebbe fatto un casino bla 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 e comunque potrebbe essere uno di quei giocatori dato che nell'Under 21 fagioli ha detto giocavano tutti e poi c'è il nome di El Sharawi che è stato buttato lì da Corona in televisione e non è stato approfondito però io ritorno sempre lì possono esserci anche 200 nomi però poi ci sono voglia le prove e ci voglia le prove che abbiano giocato sul calcio perché perché poi Corona a Staffelli fa vedere un video di Zaleski che palleggia parla di Djokovic che sta a 15-40 e gli chiede a un suo amico un suo compagno un ex primavera dell'Inter nipote dello zio che avrebbe parlato nel servizio della Rai bla 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 quanto ci hai messo su Djokovic ma chi se ne frega c'è un grandissimo chi se ne frega per me Zaleski può giocarsi anche 12 milioni di euro sulla roulette che esce lo zero è la roulette sì che esce lo zero ma chi se ne frega non sta alterando il risultato sportivo non sta scommettendo sul calcio non sta violando nessun tipo di regolamento poi probabilmente ci sono dei problemi di gioco d'azzardo e su questo va aiutato e soprattutto perché si parla di tanti ragazzi giovani tanto che si parlava di quell'under 21 sono tanti ragazzi giovani tutti quelli nominati a parte Gatti che ha qualche anno in più sono tutti ragazzi giovani e comunque Gatti non è vecchio quindi secondo me c'è da fare questo tipo di ragionamento ok scommetteva sul tennis come faceva Fagioli all'inizio magari c'è pure Gatti scommetteva sul tennis o ha scommesso sulla Juve perché io ve lo dico tranquillamente da quando è uscito tutto sto discorso quell'autogol di Gatti sempre a Reggio Emilia un po' lo rivedo in interro e mi chiedo ma scusa ma è quella roba lì cos'è stata se la guardi in mala fede pensi che Gatti abbia giocato il suo autogol se la guardi come andrebbe guardato lo sport pensi che è stato semplicemente un errore tecnico imperdonabile perché io Gatti poi non l'ho nemmeno visto uscire non si è fermato dopo dopo la partita quindi segno che probabilmente era molto arrabbiato però anche Fagioli era molto triste poi abbiamo scoperto perché secondo questa ricostruzione che dobbiamo vedere se è vera o falsa se corrisponde però il discorso è quello che facevo ieri cioè a me sembra che in questo momento Corona abbia dei nomi perché per un motivo o per un altro magari hanno giocato all'interno di queste piattaforme online e allora ne risponderanno dato che sono piattaforme illegali da un punto di vista penale non lo so se si può andare sul penale giuridico comunque nella sfera civile del cittadino non del calciatore perché se poi questi non hanno giocato sul calcio tipo Tonali ha ammesso di aver giocato sul calcio sempre il discorso delle trappole dell'orso si dice pure sul Milan poi bisogna approfondire bisogna vedere Zagnolo ha negato dicendo che erano soltanto poker online blackjack Corona dice avere le prove perché non vengano pubblicate perché all'inizio notizie su notizie su Dillinger News e adesso tutto tace perché adesso c'è bisogno di andare alla RAI perché adesso c'è bisogno di andare a striscia perché ti devi far pagare sulla piattaforma per diffondere quella determinata notizia e questo è il motivo e quindi comunque lui ha delle prove ma sta aspettando che qualcuno lo paghi per avere le prove quindi che significa che alla procura non ha detto niente perché se no le indagini della procura andrebbero avanti e lui avrebbe anche molta fretta di fare questi nomi prima che la procura faccia saltare le sue informazioni riservate oppure semplicemente ha i nomi ma non ha le prove perché magari sono nomi di ragazzi che sul calcio non hanno mai scommesso queste sono un po' le domande che mi viene da fare poi per fortuna questa pausa nazionale sta finendo per fortuna ora si tornerà al calcio giocato ma nella prossima pausa nazionale io lo dico già temo che vedremo una determinata cosa e Corona l'ha già detto la prossima inchiesta sui calciatori gay e Corona fa un discorso veramente qualunquista che nel 2023 non avrebbe nemmeno ragione di esistere cioè ah perché nessun calciatore dice che è gay vuol dire che non ci sono i calciatori gay in serie A è impossibile una persona con un minimo di sale e in zucca sarebbe in grado di comprendere e di capire che sono cose che appartengono alla sfera personale e privata di ogni individuo e non sono nemmeno tenuti a dirlo se hanno una determinata preferenza sessuale piuttosto che un'altra perché non dovrebbero nemmeno essere giudicati da una roba di questo tipo invece ci facciamo l'inchiesta facciamo l'inchiesta e monetizziamo sulla sfera privata e personale di una persona che non ha nessun tipo di ripercussione nemmeno con regolamento sportivo soltanto per il gusto di farlo un vero e proprio paparazzo come è diventato famoso per questo che vi sto dicendo da giorni non andate a esaltare Corona come quello che ha ripulito il calcio italiano perché non è un supereroe che non è un santo e non è nemmeno una persona che ha interesse nel anzi Corona addirittura dice uno dei calciatori omosessuali è nell'Inter ma non posso dirlo è la mia squadra quindi è anche un po' la faccia come il sederino non dovresti dirlo a prescindere dalla squadra perché tanto penso che sia anche abbastanza una violenza io per fortuna sono sempre stato ben convinto del mio orientamento sessuale provate a mettervi nei panni di una persona che non sa se dirlo o meno perché c'è ancora tanta ignoranza compresa quella di Corona e che viene forzato a dover fare un coming out anche se non lo vuole fare perché sa che purtroppo ci saranno delle ripercussioni sulla sua carriera anche per questa cosa perché perché ci sono tante persone ignoranti e stupide e questa è un po' la conclusione di un video che secondo me è abbastanza triste ma l'inconico perché ci sono state dette tante cose molto brutte secondo me all'interno di questo video e che secondo me dal punto di vista umano dovrebbe riportare un po' di persone sul pianeta Terra perché in queste settimane ho letto troppe cose cattive al di là del fatto che ci sono stati degli errori perché qui non è un discorso di giustificare qui è un discorso di ritrovare un po' di umanità perché tante persone l'hanno persa purtroppo che ci sono stati